Siete di nuovo a Potenza perché avete richiesto la disponibilità del Viviani? Sì, sì, sì. C'è stato oggi un incontro qui in prefettura per dirigere la fattibilità di questa operazione. Ci teniamo in maniera particolare a ritornare a Potenza perché Potenza, la società del Potenza e gli abitanti di Potenza ci hanno fatto sentire a casa l'anno scorso. Abbiamo vissuto una bellissima esperienza e ci parebbe piacere ripeterla. Ma come mai in Campania avete avuto così tante difficoltà? Diciamo che noi stiamo lavorando in maniera convinta per ritornare a casa. Per cui siamo più concentrati sul fatto di fare i lavori il prima possibile al campo italiano e renderlo adeguato alla riga pro. Possiamo dire che ha fatto il tifo per il Potenza? Assolutamente sì. Io domenica ho visto tutta la partita e farò anche domenica il tifo per il Potenza e per la città di Potenza. E per la società del Potenza. Gente veramente per bene, persone molto per bene.